Allora, lei come si chiama e cosa fa? Achille Graff, sono il condirettore della terapia di Wikimedia. Allora, è la prima volta nella sua vita che vede una situazione del genere? Io sono di carica da poco, da poco, è dall'anno scorso. Noi non so come ci organizziamo, ma come si è stata legata. Secondo lei, qual è la cosa più importante? Il messaggio che possiamo far passare? Quale sarebbe? Secondo me il messaggio più importante è che, nonostante con questa mobilizzazione di gente che si è stata in questi giorni, in questi due mesi, nonostante che l'Italia, ma l'Europa in generale ha le risorse per poter aiutare queste persone. E quindi mi direbbe un attimo, il dovere di mettersi un po' la mano sulle persone e di aiutarsi veramente, senza discorsi politici, senza nascondersi dietro cose che non sono. Questo vuol dire aiutare il suo cuore, ascoltare, ascoltare. Ascoltare il cuore, aiutare le persone che ne hanno aiutato, quello che ci insegna Gesù. Grazie.